buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con lombardia notizie online con noi oggi il sottosegretario allo sport agli eventi sportivi e alle olimpiadi antonio rossi ciao buongiorno a tutti innanzitutto come stai sto bene sto bene ho retto le emozioni di ieri delle due doppie medaglie d'oro di giacob di tamberi quindi sto bene prova superata benissimo ci hai già anticipato con la prima domanda perché facciamo una premessa per quei pochissimi soprattutto magari più giovani che non lo sapessero antonio rossi ha vinto quante medaglie olimpiche io ho vinto cinque medaglie olimpiche tre d'oro un argento e un bronzo quindi diciamo che della materia te ne intendi delle emozioni che si provano e si fanno provare ai giochi olimpici se ho avuto la fortuna di fare cinque edizioni dei giochi e capisco quello che stanno provando molti degli atleti che stanno partecipando ai giochi ecco partiamo da marcel jacobs anche perché lui è cresciuto si è formato si è allenato tantissimo in lombardia a desenzano cosa hai provato nel vederlo sfrecciare ieri e vincere i 100 metri la regina delle gare delle olimpiadi ho ancora i brividi la pelle d'oca cioè ha fatto una cosa incredibile ma l'ha fatta è proprio il percorso che ha fatto dalle batterie alla semifinale a come ha corso la finale la sicurezza la tranquillità ma anche solo vedere l'intervista che ha fatto nel post gara è qualcosa di una tranquillità una serenità veramente unica ha fatto un'impresa perché vintere i 100 metri alle olimpiadi è qualcosa di mondiale cioè veramente è uno sport i 100 metri che vedono tutti che fanno tutti e sei il più veloce al mondo ha vinto con un tempo fantastico 9 80 è lo stesso tempo che ha fatto tra l'altro bolt a rio quindi veramente veramente bravissimo cioè incredibile quello che ha fatto credo che anche lui non se ne sia ancora reso conto ma sono veramente molto felice per per lui per i suoi genitori per per i suoi amici per la sua federazione sono per tutti quanti hanno contribuito a farlo arrivare dove arrivato poi sempre ieri tamberi un altro sport un volo è anche soprattutto un altro carattere per come abbiamo visto poi festeggiare la medaglia d'oro beh giambo e lo conosco bene perché era in fiamme gialle adesso in fiamme oro la sua storia è una storia che tra l'altro si ripete a quella di yurike che si è fatto male proprio appena prima della partenza di rio e quindi era un oro che voleva insomma che che cercava cinque anni non quattro di sofferenza di lavorare sempre con un sogno ben preciso e sono veramente felicissimo per lui perché capisco la gioia che ha provato quando quando è riuscito a vincere dividere l'oro con un'altra persona secondo me è una cosa bellissima non toglie certamente valore al suo oro e per quello che è stata la sua storia credo che capisco la sua gioia e quando insomma anche con lui quando l'ho visto in televisione ero veramente felicissimo ci spostiamo un altro oro sempre lombardo federica cesarini e valentina rodini ori lombardi in uno sport che ti sono abbastanza fine beh sì due atlete fortissime hanno vinto veramente in zona cesarini perché fino a 150 metri dall'arrivo erano quarte e hanno vinto all'ultimo all'ultima 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 remata bravissime una medaglia storica perché la prima femminile nel canottaggio federazione che è andata molto bene in questa edizione dei giochi forse cioè sicuramente un po di amarezza per il 4 di coppia che era insomma veramente aveva l'oro in tasca e per un errore a metà gara non si è visto sfuggire sono ragazzi giovani tra l'altro andrea panizia di mandello insomma una società storica a lui dico di guardare quello che è successo ad atleti come come giambo come tamveri insomma che hanno avevano questo sogno di rivincita e quindi hanno lottato e hanno non si sono fatti scoraggiare e quindi lo aspetto a parigi nel 24 strettissima attualità rimaniamo in lombardia oggi una tua amica un'atleta che conosci molto bene lombarda di brescia vanessa ferrari ha con costa con ha coronato il suo sogno conquistato una medaglia non è l'oro ma è un argento pesantissimo molto pesante anche questa una storia bellissima di un atleta fenomenale molto sfortunata che è sfortunato per quanto riguarda non dico i risultati ma gli infortuni che ha avuto ma che ha saputo stringere i denti ha saputo sognare a lavorare molto bene quindi complimenti a brescia insomma alla sua società al suo direttore tecnico veramente ha saputo resistere a tutti a tutti gli infortuni poi arrivava da tanti quarti posti insomma che io sono arrivato quarto e ti posso assicurare che c'è sempre un po di rammarico quando quando sei ai piedi del podio però è sempre un quarto posto molto importante le olimpiadi quindi è più vedo più lei come sfortunata non perché è arrivata quarta ma perché ha avuto degli infortuni che poi non hanno permesso di esprimersi al massimo sono contento della sua medaglia d'argento se non meritava sarebbe arrivata secondo me ugualmente a medaglia seconda anche con con l'altra americana con la simone è veramente bravissima complimenti a tutto il movimento della ginnastica hanno dimostrato insomma di di saper lavorare bene tra l'altro con ho visto appena prima della partenza dei giochi il presidente federale tecchi stiamo ragionando su dei centri federali qui in lombardia tu sai che ce n'è già uno ad esio con le perpere farfalle che devono ancora gareggiare e vorremmo ampliare insomma questi questo discorso su sulle anche sulle altre specialità prima di chiudere chiedo al collega pepe meduri di allargare di inquadrare gli orizzonti dietro di noi siamo al 38esimo piano di palazzo lombardia milano cortina 20 26 sembrano molto lontane ma qui ospiteremo anche noi delle olimpiadi a che punto siamo ma si sta procedendo è una via è un iter burocratico molto duro però insomma si sta andando avanti il presidente ha recentemente incontrato anche il ministro delle infrastrutture a roma insieme all'assessore terzi hanno parlato della società che si occuperà delle delle infrastrutture quindi si si va avanti mi piace pensare che grazie ai risultati proprio che stanno ottenendo atleti atlete in questa in questa edizione dei giochi ci sono ragazzi e ragazze che sognano magari nelle specialità invernali di poter gareggiare a milano in lombardia in valtellina insomma in cortina in veneto in trentino e fare un risultato io veramente dico loro di crederci insomma di sperare di guardare bene adesso le facce di chi vince di chi prende la medaglia ma anche di chi gareggia chi ha la possibilità di esprimersi al meglio e di sognare di poter partecipare ai giochi del 26 bene concludiamo qui questo appuntamento con lombardia notizie online con antonio rossi antonio prima delle olimpiadi col presidente fontana avevamo messo sui nostri social come auspicio la mitica telecronaca di giampiero bisteccone galeazzi che ti incoronava campione dei campioni diciamo che ha portato fortuna speriamo i giochi non sono ancora finiti nel caso la rimettiamo grazie a tutti arrivederci grazie ciao